Atalanta-Fiorentina è 3-2 show, Lukman decide. Duello emozionante, Atalanta batte Fiorentina per 3-2. In una spettacolare partita che si è svolta domenica tra Atalanta e Fiorentina, l'Atalanta ha avuto la meglio con un punteggio di 3-2. A spettatori e tifosi è stato offerto un match variegato, in cui il giocatore Lukman ha occupato un ruolo centrale, contribuendo in modo significativo alla vittoria della sua squadra. Il gioco è iniziato con un ritmo elevato e entrambe le squadre hanno mostrato il meglio di sé. Già nel primo tempo ci sono state numerose occasioni da entrambe le parti. L'Atalanta ha iniziato con intensità e al 15 minuto è passata in vantaggio con un gol di Lukman. Il giocatore ha reagito bene a un cross e ha messo il pallone in rete con sicurezza. Non passò molto tempo prima che la Fiorentina rispondesse, pareggiando al trentimo minuto con un rigore trasformato. L'arbitro aveva fischiato un calcio di rigore dopo che era stato commesso un fallo in area di rigore. Nel secondo tempo la partita diventò ancora più intensa. Atalanta ha continuato a premere in attacco e ha riconquistato il vantaggio al cinquenzimo minuto con un ulteriore gol di Lukman. I tifosi hanno esultato con entusiasmo, poiché Lukman ha mostrato una prestazione straordinaria e ha nuovamente dato un vantaggio alla sua squadra. Tuttavia, la Fiorentina non si è arresa e ha pareggiato al 65 minuto, creando momenti emozionanti nel resto del match. In sintesi, si può dire che la partita tra Atalanta e Fiorentina è stata un vero festival del calcio. I giocatori di entrambe le squadre hanno mostrato grande impegno e abilità sul campo, ma alla fine ha prevalso l'Atalanta, soprattutto grazie alla straordinaria prestazione di Lukman, che ha segnato i gol decisivi. Con questa vittoria possono guardare con ottimismo alle prossime partite della stagione. Gli sviluppi e i momenti salienti della partita sono stati seguiti da numerosi media, il che sottolinea l'importanza di questo incontro. Ecco il testo tradotto in italiano. Sarà ancora più interessante vedere come si evolverà la situazione in classifica nelle prossime settimane e quale ruolo avrà l'Atalanta e la Fiorentina in questa stagione in corso. Autore Anita Faache, domenica 15 settembre 2024.